Pneumatici Valtellina Le nostre piazze e le nostre strade si stanno trasformando in uno speciale grande fratello. Sono ben 85 le telecamere di videosorveglianza posizionate alle comuni di Sondrio, 8 delle quali installate soltanto nell'ultimo anno. Ma se da un lato i cittadini possono considerarsi più sicuri, dall'altro potrebbero sentirsi continuamente sotto osservazione. Ecco, cosa ne pensano i sondresi? Si sente sicura o osservata con queste telecamere? Ma sì, sicura, sicura. Osservata, pazienza, però si è più sicuri. Quindi non si sente violata nella privacy? No, diciamo di no. Siamo sempre controllati appunto dal lato, è una cosa positiva perché comunque è per la nostra sicurezza, però dall'altro è anche, diciamo, negativo per la nostra privacy. A me vanno bene, anche perché non ho niente da temere, per cui assolutamente non mi danno fastidio, anzi, meglio. Io non mi sento violata nella privacy se uno controlla, no? Mi sento più sicura. Quindi a suo avviso non esiste violazione di privacy? No, assolutamente, secondo me no. Sono sicura io. Eh, sicuramente più sicuro, è una buona soluzione, è una cosa giusta, con quello che succede al mondo oggi può essere una cosa giusta. Più sicuri. Io non ci penso neanche, cioè non mi viene neanche in mente che ci siano le telecamere. A Sonia mi sento comunque sempre abbastanza sicuro, sia con le telecamere che senza. Quindi a suo avviso non c'è violazione della privacy con le telecamere di videosorveglianza? Secondo me no, perché comunque uno sa che in un luogo pubblico chiunque può vederlo.